Basta, otto anni per ottenere un'AIA, un'autorizzazione integrata ambientale, sono troppi. In otto anni il mondo è cambiato e noi siamo rimasti bloccati da una burocrazia centrale, periferica, che si è accavallata, complicata, non ha assunto responsabilità e ci porta a una situazione di stallo. Ed è fondamentale ricordare che la ripresa passa dall'impresa.